Una buona notizia per le finanze cittadine. Il Comune di Napoli è riuscito a rispettare il patto di stabilità interno per il 2011. L'ho annunciato questa mattina in conferenza stampa all'assessore al bilancio Re Alfonso assieme al sindaco De Magistris. Il patto di stabilità interno è una norma che vincola gli enti locali al rispetto di alcuni parametri economici e finanziari che ne controllano lo stato di salute. Se un comune non rispetta il patto riceve meno soldi dallo Stato ed è obbligato ad elevare ai massimi tutte le imposte locali, ad aumentare le tariffe dei servizi, a vendere una parte dei propri immobili. Nello scorso mese di giugno la situazione relativa al primo semestre 2011 faceva registrare un preoccupante deficit di 63 milioni di euro che per oggi è stato ripianato. Questa volta Napoli ha dato lezioni di buona amministrazione, dichiara soddisfatto Re Alfonso, annunciando poi l'immediata disponibilità di 70 milioni da destinare alle priorità del territorio, soprattutto alla conclusione dei lavori nei cantieri della città, tra cui quelli della metropolitana, della manutenzione stradale e dell'edilizia scolastica. Napoli è l'unica grande città d'Italia, a conti fatti, che fa tutto da sé, perché Torino non rispetterà il patto di stabilità con conseguenze molto gravi. Milano riesce a rispettare il patto di stabilità solamente perché le spese per l'Expo sono per legge state escluse dal patto e per quanto riguarda Roma una normativa specifica ad hoc, quindi Napoli è l'unica grande città d'Italia che rispetta il patto con un'azione di rigore, di serietà, di controllo della spesa. Questi sono dei primi risultati di un'azione di risanamento che ci ha consentito di evitare una situazione di dissesto che era quella che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione. Tutto ciò che è possibile togliere alle spese della macchina comunale verrà riversato nella città, verrà riversato in termini di servizi ai cittadini e in termini di denaro per le imprese e per i cantieri che sono aperti.